Arriva una boccata d'ossigeno per il mondo dello sport locale. La provincia ha infatti assegnato oltre 400.000 euro a centinaia di associazioni sportive e ricreative della destra tagliamento. Finanziate attrezzature e attività quali tornei, corsi, manifestazioni, campionati di tutte le discipline sportive, dal calcio alla danza, dalle arti marziali al nuoto. A decidere gli stanziamenti è stato il presidente Ciriani, che ha la delega allo sport. Presidente 417.000 euro finora nel 2013 per il mondo dello sport, che rimane dunque una priorità. Sì, tra l'altro questo è un primo riparto perché poi ne seguiranno altri. Tra l'altro questo non comprende gli interventi sull'impiantistica sportiva. Perché investiamo tanto? Magari anche esponendoci delle critiche, investiamo tanto nello sport. Perché le realtà associative del nostro territorio, quelle che si curano dei ragazzi, dei bambini, sono dei presidi sociali fondamentali. Oggi piuttosto che lasciare ragazzi per strada è meglio dare un aiuto a queste realtà associative che ogni giorno si occupano di tenere tanti ragazzi all'interno dei circuiti sicuri e di farli crescere non solamente nel fisico ma anche nella testa. Io sono un convinto assertore della necessità di far far sport ai ragazzi, di tenerli nelle condizioni di poter, chi ha i numeri, andare avanti, ma per il resto di divertirsi. Investiamo troppo magari in politiche sociali di difesa, quando le cose sono già completamente andate all'aria, mentre tenere ragazzi in questi ambienti è sicuramente un investimento per il loro futuro. Grazie. 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 Grazie.